È un grande lavoro da parte della Digos, l'allontanamento di questo imam che ha un incarico così delicato come quello dell'insegnamento nei confronti di ragazzi e in realtà cerca di fare un proselitismo, una propaganda di tipo schiettamente proprio religiosa e razzista all'inverso. Non è corretto, non è giusto che all'interno della nostra civiltà ci possano essere questo tipo di comportamenti. Dobbiamo veramente difendere la nostra cultura e stare attenti di quello che sta accadendo. Ci sono parlati anche di fatti come quello di bambine kamikaze, non vogliamo pensare che questi bambini devono essere dei veicoli di messaggio di odio e non di certo quello di accoglienza né quello di integrazione.